Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto Ma che cazzo ci sta oggi? Stai vedendo? Un giorno stavo pagando su FIFA quando vedo che ci sono i pacchetti da 100.000 Promo incredibile Allora un pacchetto di questi costa la bellezza di... non si può svelare Comunque costa più o meno 7 euro Perché sono 105 euro un pacchetto del genere Neanche le Football Champions Chi se ne ricorda le Football Champions? E benvenuti a questo pack opening Noi siamo i GRANANAS e incredibilmente oggi ci sono i pacchetti speciali da 100.000 Quelli rosa I giocatori più forti e desiderati Tutti in un unico pacchetto Cioè non la descrizione non la cambiano mai Sempre uguale Tutti i 24 giocatori Perché si muove? Eppur si muove Comunque ci sono i pacchetti Sono drogato oggi Ci sono i pacchetti speciali raga E sono solo 5 Dobbiamo sbrigarci Fa da solo Io non tocco niente Giuro Guarda Si ma fa da solo Oh qua oh Si certo Aspetta Ho fatto così Non ho toccato Oh ragazzi ha fatto tutto Si giuro io non sto facendo niente Oh questo col cazzo quello schifo Oh 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 Merda Art Che è? Allora Rosicky Adesso Di Natale Zann Zann Bradley Incredibile Vermelon Bentner Jardel Bicek Ranocchia Sau Guanyama non manca mai Hegeler, Mugnain, Ruffie, Sané, Finisco il più, Koke, Leonardo, De Vaux, Art, Johnson, Fonte, El Charawe e Bolaji Ah è già del monagone El Charawe, appunto vediamo Vai con il prossimo, aspetta 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 Tranquillo Facciamo una preghiera a qualcuno, dacci qualcosa, dacci una manna Non ce ne è mai niente Guarda con un'altra volta il bug Perché? Perché? Vai, apri, apri Veloci, non ci pensiamo, non ci pensiamo Non ci pensiamo Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' Dai, daccelo Oh, Courtois Pensate che era Zardo E Zardo è sempre, sempre presente Begnata anche Pisce che è un'altra volta Diabate, Zandao Questa è una quel zucchero che ha dato sotto, diabate Vale qualcosa, Courtois Che se vale qualcosa lo mettiamo a vende Capaie, immobile Già Telsimiglia Ma perché? Telsimiglia Alexis Dobbiamo far 50.000 quarti due pacchetti, non ce la famo Mai 20.000 non ce la famo Mai, mai Grosigata Cominciamo a scartare tutti i giocatori Che c'hanno Attenzione Daccelo uno Daccelo Vai Su, questa palla c'è a 100.000 crediti Dai, no E sto pure di un rosa Dai, ma chi è? L'Ingsteiner Kissling C'è, Kissling Rango Come? Tarangio Jarvis Renakia Renakia Ibarra Come qui? Braitz Musa Eh Barba Barba Ecioluga Si può fa, si può fa Cazzo fai C'è vero? No, ho capito Vuol dire pari tutto lui E se può fa, si può fa Si può fare Si può fare Vai Vai Ma guarda Un bel bel rosa steppi a per culo ora no chi ha rotto il cazzo però c'è che tira montoglia la lana tutto pure montoglio ammotturato il terzino per il prossimo anno non avevo paura qualità una ventina di giocatori vai vai così scarta toccherebbe vendere uno per colo tipo il gundogano che abbiamo trovato e vabbè se veni quello manco sarebbe che scarti questi ok 90 mila dai fateci uno sconto pezzi de merda 92 mamma mia come stavo messi male allora dopo aver raccimalato tutti questi soldi siamo pronti ad aprire l'ultimo pacchetto se lui finisce di scartare tensione 99 ci siamo ce la facciamo ce la facciamo ragazzi basta apriamo sto pacchetto no se ne è mente comunque erano quasi finiti e si fammi finisce lasciarla tanto abbiamo 15.000 possiamo aprire anche l'altro pacchetto insieme non è tipo teletone diamo il via al calendario 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 di serie A che pagliacciata vai eole no ha buggato ha buggato no dai ha buggato perchè devono far spendere per forza i soldi vabbè raga chiudiamo il video vediamo se riusciamo a prendere a vinde kundokan lo apri vedi che fa da solo eh guarda io non ho toccato niente comunque se riusciamo a vinde kundokan scartiamo anche l'altro sennò finisce così guarda adesso ho toccato qualcosa va bene bello ciao 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 ciao